Siamo all'inizio di via Aquilea, un'altra delle strade, dei tratti che saranno interessati da Fluidoc con tanti stand che con il nostro Giancarlo Ceron da adesso vi facciamo anche vedere. Questa tra l'altro è la zona che di solito ospita anche gli stand degli amici austriaci con il cibo tipico di quelle parti. Ebbene l'amministrazione, l'organizzazione di Fluidoc aveva pensato anche di dare il benvenuto alle persone di lingua austriaca, i tedeschi, lingua tedesca che arrivano qui e sui pannelli che sono stati sistemati in città in più punti compaiono queste scritte di benvenuto, c'è la scritta in italiano ed è corretta, c'è quella in friulano, presumo che sia corretta anche questa qui, poi c'è quella in inglese, corretta anche questa, qui c'è un problema che è stato segnalato, proprio nel benvenuto che Fluidoc dà ai cittadini di lingua tedesca c'è un errore, ci hanno segnalato che Wilkommen, spero si pronunci così, è stato scritto con una sola L mentre le L sarebbero due.